Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi un nuovo video in cui voglio parlarvi in particolare di alcuni prodotti che mi sono piaciuti tantissimo. Questi prodotti sono tutti di un'unica azienda, questo video non è sponsorizzato ma i prodotti sono stati gentilmente offerti dall'azienda la quale mi ha chiesto di collaborare l'anno scorso verso Natale, solo che per vari impegni personali purtroppo non sono riuscita a girare il materiale in tempo per cui diciamo che la collaborazione era un attimino saltata. Dopodiché mi ero comunque incuriosita di questa azienda vedendo quello che facevano e mi erano piaciute almeno visivamente tantissimi prodotti per cui ho deciso di ordinarli per conto mio per fare un regalo a una personcina molto speciale che tra l'altro doveva essere un regalo di Natale ma l'ho spedito qualche giorno fa quindi non è più un regalo di Natale però sicuramente fa sempre piacere perché è un regalo molto molto carino e quindi di mia spontanea volontà ho voluto comunque provare i loro prodotti e ho fatto questo acquisto e questo regalino. Ovviamente volevo spedirlo direttamente alla persona solo che non conoscendo l'azienda e non conoscendo i prodotti e la loro qualità ho preferito che arrivasse prima me e poi che io stessa poi spedissi il pacco a regalo. Quando mi è arrivato il prodotto sono rimasta entusiasta perché la qualità era eccezionale, il packaging come sapete io ci tengo tantissimo era bellissimo per cui sono stata contentissima di aver scelto quel tipo di regalo. Per San Valentino mi hanno riproposto questa collaborazione quindi di riprovare i loro prodotti sono stata felicissima solo che anche lì ero fuori dall'Italia e non ho potuto inviare le foto in tempo per San Valentino. Quindi i prodotti mi sono arrivati successivamente. Quindi alcuni prodotti che vedrete sono un po' love diciamo così però sul sito trovate la stessa versione dei prodotti completamente normale. Ora capirete in questo momento non riuscite a capire però ora che vedete i prodotti capirete. CIRS è presente sia sul web come sito internet e anche come app infatti io l'avevo scaricata perché a volte fanno dei prodotti che vengono venduti in anteprima per chi acquista tramite l'app. Infatti mi era arrivata la newsletter di questo cofanetto per un bambino quindi potevate regalare questo cofanetto e dopo la persona la quale regalate ha 300 foto a disposizione da stampare durante la crescita del proprio bambino. Tutto completamente pagato da chi regala e anche la spedizione inclusa quindi è davvero un regalo bellissimo. Andatelo a vedere, andate a leggere bene che sicuramente capirete meglio di come ve l'ho spiegato io. Passiamo ai prodotti che sono la parte fondamentale di questo video e non vedo l'ora di iniziare perché sono davvero carinissimi. Il primo prodotto sono dei segnalibri che vi vengono spediti in una bustina con la scritta Cheers che è il nome dell'azienda e un coricino è fatta di carta abbastanza rigida. All'interno ci sono ben 5 segnalibri fatti in questo modo. Io ho scelto delle foto di alcuni miei make-up realizzati e voi potete interamente scegliere per tutti i prodotti il layout delle foto. Quindi all'interno del sito quando inserite le foto scegliete voi come posizionarle e quale foto inserire all'interno dei segnalibri. Postare interamente a loro l'impaginazione dei segnalibri perché ero curiosa di capire come li avrebbero impaginati e devo dire che sono molto molto contenta di questa impaginazione. Non vi faccio vedere il quinto segnalibro perché ci sono delle foto mie di Vicky quindi per tutelare la sua privacy non ve le faccio appunto vedere. L'altro prodottino super carino sono queste calamite qui a forma di cuore e il pack è bellissimo e appunto questo cuoricino all'interno che si apre in questo modo. 12 calamite perché una ce l'ho di lì e ve ne arrivano due, no tre scusate fatte così con il logo CIRS vuote e questa c'è scritto non si può resistere alle leggi dell'attrazione perché era appunto per San Valentino. Non so se adesso trovate ancora questa cuore ma comunque ci sono quelle classiche. Poi ci sono quelle appunto con le vostre foto e guardate questa è bellissima, mi piace tantissimo poi ho una con la piccola Vicky, una mia e di Cindy, uno due mie e di Paolo poi un'altra con la piccola Vicky, un'altra mia e di Paolo, ancora mia e di Paolo e ancora mia e di Paolo quindi sono davvero carinissime e poi sono super leggere, ho provato ad attaccarle al frigo e si attaccano benissimo quindi carinissimo anche questa idea regalo. Successivamente abbiamo questa piccola box molto molto carina dove all'interno, questo era tema appunto San Valentino, dove all'interno ci sono ben 30 Polaroid come vedete il pack è molto bello, molto curato e anche se dovete regalarlo appunto è bellissimo quindi c'è il tappo con scritto Cheers e You Know I Love You dall'altra parte come potete vedere la foto continua dalla base sul tappo e all'interno ci sono appunto le Polaroid ve le faccio vedere. Io ho appunto mandato le stesse foto, ovviamente qui c'è qualcosina in più essendo appunto più foto comunque sono fatte molto bene, la qualità delle foto è bellissima sono sempre queste dei look di NYX Face Awards queste qua, questa mia e di Cindy poi sempre questa mia e di Paolo questa con la piccola Vicky mia e di Paolo anche questa con la piccola Vicky, la mia faccia va bene questa con il make up di Halloween questa di Paolo con la piccola Vicky sempre mia e di Paolo io con le mie amiche io e Cindy ce ne sono davvero di bellissime che purtroppo non posso farvi vedere ma sono bellissime anche questa con Morris un'altra fotina con la Vicky ce ne sono un bel po' anche questa dei NYX Face Awards che mi piace tantissimo diciamo che sono parecchie foto ovviamente di base nel prezzo base che se non erro questo box costa 16 euro 20 euro comunque una cifra davvero piccola per tutte queste foto e per un regalo davvero molto molto carino e lo trovo davvero un'idea regalo meravigliosa infatti io ripeto a Natale ho deciso di comprarlo di mia spontanea volontà perché mi ha colpito tantissimo e poi per San Valentino all'interno inviavano anche questi piccoli bigliettini con delle frasi d'amore ho ricevuto anche questi bellissimi adesivi emoji adesive non so se erano con questa box o con il prodotto successivo ma se non erro erano con questa box però non voglio fare confusione ora veniamo al pezzo forte che è quello che mi piace di più di tutti ed è il fotolibro è davvero molto molto carino mi piace tantissimo ed è appunto questo fotolibro qui fatto in cartone dove sulla copertina potete decidere come vi dicevo interamente come posizionare le foto cosa mettere sulla copertina quindi a prescindere da questo qui che è la foto esterna non potete deciderla nel fotolibro potete appunto scegliere la foto che volete scusate applicare sulla copertina io ho scelto questa mia ed i morris che mi piaceva tantissimo poi come prime foto ci sono queste mie di Paolo la qualità di stampa è davvero meravigliosa ovviamente per fare questa tipologia di fotolibro dovete avere delle foto in altissima qualità altrimenti diciamo che si sgranano e perdono un po' la loro bellezza poi c'è questa foto qua che io veramente adoro è bellissima stra bella mi piace da morire ovviamente lui sempre al centro dell'attenzione poi c'è anche questa fotina qua bellissima poi abbiamo questa foto mia e di Cindy che mi piace troppo ci sono le fotine con la Vicky che devo coprire il suo visino sono queste qui poi altre foto con la Vicky anche qui ci sono questa foto mia di Cindy e qui ho un'altra foto di Vicky e altre con Morris poi altre fotine l'impaginazione è davvero molto molto bella però io preferisco questa su due pagine davvero bellissima poi la qualità è meravigliosa poi c'è questa foto qui di Cindy e Loretta che mi piace tantissimo poi questa mia foto ho mandato quella appunto che avevo in altissima qualità poi non ho avuto tanto tempo per poterle selezionare quindi quelle che avevo sotto mano ho inviato ma la mia preferita rimane assolutamente questa è troppo 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 bella e questi erano tutti i prodotti che mi hanno gentilmente omaggiato e davvero ci tengo tantissimo perché oltre a essere legati a un ricordo comunque a un affetto sono bellissimi sono in altissima qualità e per dei regali appunto sono meravigliosi ma anche per averli cioè per tenerli per sé sono davvero carini infatti con le foto ci voglio fare una composizione qui sulla scrivania che secondo me viene bellissima poi cos'altro dirvi loro fanno la spedizione classica in più c'è una spedizione super veloce di 48 ore qualora dovete fare delle regali last minute quindi vi arrivano subito una volta che appunto inviate l'ordine e niente penso sia tutto sotto trovate un piccolo codice sconto per voi che mi ha offerto l'azienda io non ci guadagno nulla non è un codice di affiliazione ma è semplicemente un codice sconto che mi hanno offerto per voi io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato un po' utile per qualche idea regalo fatemi sapere in un commento se i prodotti vi sono piaciuti se anche la scelta delle foto che ho fatto vi sono piaciute io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo domani con un nuovo video ciao ciao